La Terra di Mezzo, raccontata da Tolkien, per tre giorni prende forma e pulsa tra le Marche e l'Umbria. Il 4, 5 e 6 agosto, a taverne di Serravalle di Chienti, torna a Montelago Celtic Festival, un'edizione in cui l'universo folk fantasy è protagonista sui prati dell'Appennino per 72 ore no stop, in cui rientrare in sinergia con il contesto naturale mozzafiato attraverso un programma d'eccellenza che convoia in un unico festival ecosostenibile musica, laboratori, letteratura, artigianato, sport, gastronomia, giochi, trekking e tanto altro ancora. Novità di questa edizione 2022, il The Riddle Pit, padiglione dedicato alle attività di gioco di ruolo, con giocatori esperti e neofiti che si cimentano in sessioni multitavolo, e poi Montelago Cinema Hall, dove poter vedere in anteprima il documentario Montelago, la città nomade. Quando scende il sole e si accendono le griglie, più di 8.000 kit per la raccolta differenziata, distribuiti gratuitamente all'ingresso e depositati in 47 punti di raccolta, 25.000 piatti e stoviglie biodegradabili, prevenzione costa a mi bene e alza la testa, non il gomito del Dipartimento Dipendenze Patologiche, a Surarea Vasta Tre Marche, un ospedale da campo gestito da Croce Rossa Italiana in collaborazione con Macerata Soccorso.